Ancora un impegno casalingo per l'Unitas Sciacca, che al Gurrera ospita il Camarat di Camarata, uno dei derby grigentini previsti durante questa stagione. Dopo la vittoria interna di domenica scorsa contro il Casteldaccia, i ragazzi di mister Vincenzo Piazza sono chiamati a confermarsi sia per dare continuità ai risultati positivi, sia per restare attaccati alle prime posizioni della classifica del Girone A del campionato di promozione, che ad oggi vede primeggiare Dolce Onorio Fogore, Lascari, Albatros d'Alcara e Castel Termini, tutte formazioni che precedono l'Unitas in classifica. Gli ospiti sono al momento in piena lotta per la salvezza con soli otto punti, frutto di due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Una partita a cui prestare comunque molta attenzione, anche perché nelle ultime due trasferte il Camarat ha ottenuto due buoni pareggi, dimostrando una buona solidità difensiva. Mister Piazza dovrà tenere conto degli acciacchi di qualche titolare, ma punta chiaramente ai tre punti, anche per dare un'altra gioia ai numerosi tifosi ed ultras che puntualmente giungono al Gurrera per sostenere la squadra. C'è curiosità, ovviamente, per vedere se Cortese partirà nuovamente dalla panchina come domenica scorsa o se invece affiancherà Galluzzo nel tandem d'attacco. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 14.30, con botteghino aperto sin dalla mattinata per permettere a tutti di poter acquistare il proprio ticket senza file.